Sorge a Borgaro Torinese il Circular Plastic, uno dei più grandi impianti in Italia per la selezione e lo stoccaggio dei rifiuti plastici. Lavora a 6.000 tonnellate al mese di plastica, che per oltre l'80% viene riciclata. L'obiettivo è arrivare a 120.000 tonnellate all'anno. L'impianto è stato realizzato con le più moderne tecnologie, per permettere la massima flessibilità a tutti gli elementi di riciclo della plastica che viene conferita dal sistema di raccolta e dalla preselezione effettuata in impianti come quello di pianezza. Sono 130 i nastri trasportatori dotati di 22 lettori ottici, in grado di riconoscere e suddividere 17 tipi di polimeri e di plastiche. Una volta terminato il processo di selezione ottica, la plastica viene stoccata e consegnata ai consorzi autorizzati, mentre gli scarti vengono lavorati e preparati per il recupero energetico. Visitando l'impianto di Borgaro ci si rende conto di quanta plastica ricicliamo. L'Italia rispetto agli altri paesi europei effettivamente sta sviluppando e continuerà a sviluppare numerosi progetti di valorizzazione dei materiali, del riciclo e del recupero del materiale che ci pone all'avanguardia rispetto all'Europa. E la provincia di Torino assolutamente può vantare ricerca, tecnologie e questo impianto è una delle punte di diamante del nostro territorio. Qui la plastica viene suddivisa e può tornare a nuova vita attraverso ovviamente la divisione, a seconda del tipo di polimero, a seconda del colore. E quindi questo è un polo di riferimento di tutti coloro che lavorano poi la plastica ridando le nuova vita. L'impianto e il lavoro dei dipendenti consente di svolgere una selezione accurata delle plastiche. Il materiale in ingresso viene selezionato per dimensione, i rifiuti più fini subiscono una successiva separazione. Quelli di dimensione intermedia vengono differenziati tra rigidi e flessibili e nel caso delle bottiglie in pet anche per colore. La metropolitana di Torino con il vice sindaco Jacopo Suppo e il consigliere delegato all'ambiente Alessandro Sicchiero ha visitato l'impianto. Noi siamo qui in visita oggi per toccare con mano la qualità del lavoro che tante lavoratrici e tanti lavoratori svolgono in questo impianto per consentire una qualità del riciclo della plastica che sia all'altezza degli standard europei e che consenta a tutti noi di vivere in un ambiente più pulito, più sano e dove il rifiuto non rappresenti un problema. Qua ci sono più di 80 addetti che per noi smistano la plastica e fanno un lavorone per la tutela dell'ambiente e questo ci richiama anche molto ai nostri comportamenti, alla responsabilità individuale rispetto agli imballaggi, rispetto al corretto separazione dei materiali e quindi è un tema che tutti quanti ci coinvolge e poi ci sono questi sistemi virtuosi per cui alla fine il rifiuto recupera una nuova vita e diventa anche una modalità per fare del business ma che aiuta il nostro ambiente.